Siamo al Romix 2014 qui a Roma e con tre ragazzi cosplay che ci descrivono appunto direttamente da loro, sentiamo il loro cosplay e lo descrivono loro, prego. Allora io sono Cersei Lannister del Trono di Spade, sono la regina e nella serie considerata diciamo un po' cattivella, però nel personaggio c'è anche una parte più amorevole perché è anche una madre e comunque ama le persone che gli stanno a cuore. Io diciamo sono il capo tribù della civiltà dei Dothraki, sono Khal Drogo e niente, sono un guerriero. Ed infine l'ultima, la bionda. Khaleesi, Daenerys Targaryen della tribù dei Dothraki, la regina dei Dothraki appunto. E' la prima volta che hai fatto un cosplay? No, no. Sempre lo stesso tema o variate? Io vario quasi ogni anno. Ho capito, l'altro anno cosa hai fatto qui? L'altro anno ho portato Charlie di Street Fighter. Benissimo, siamo a Romix di ottobre 2014 a Roma. Grazie. Grazie. Grazie.